Assessore, insieme alla Giunta sono stati approvati alcuni cambiamenti all'avviabilità del traffico nella zona porto. Di che cosa si tratta? Il Comune di Fano ha adottato una nuova delibera di estendere il divieto di transito nella zona portuale tra Viale Adriatico e Via Nazario Sauro. La delibera comprende il divieto di transito da oggi, mercoledì 10 luglio al 1 settembre, tutte le sere, dalle 20 alle 24. La nostra priorità è la sicurezza e la fruibilità delle nostre strade, mettendo a sicuro i nostri pedoni e i ciclisti. e la maggior vivibilità dell'area portuale, comprese le attività economiche che ne avranno un beneficio anche in sicurezza per i loro dipendenti. Ricordiamo allora i giorni e gli orari? Allora, il divieto di transito parte da oggi, mercoledì 10 luglio, finisce il 1 settembre. Gli orari sono tutte le sere, dalle 20 alle 24.